In una nota stampa, l'Associazione Culturale ABC, Agropoli Bene Comune e l'Associazione Pegasus sentono il dovere di ringraziare tutte le scuole che hanno partecipato e contribuito con la loro presenza alla corsa non competitiva del 31 marzo, sedicesima edizione stracittadina. Si legge nella nota, si legge nella nota, un ringraziamento va a tutti gli sponsor che con il loro grande o piccolo contributo ci hanno dato la tranquillità economica necessaria alla realizzazione dell'evento. Un grossissimo ringraziamento va rivolto a tutti i soci di ABC e di Pegasus che con il loro impegno ed uno straordinario lavoro di volontariato hanno curato la manifestazione nel migliore dei modi ed a causa di una motivazione tecnica non prevista e collegata all'evento Half Marathon che si svolgeva quasi in contemporanea, la corsa dei ragazzi ha subito un anticipo nella partenza e molti iscritti non hanno potuto partecipare. La delusione che ha colpito i ragazzi e le loro famiglie è stata da noi avvertita con tanto disagio e siamo anche più sicuri che le nostre più sentite scuse non serviranno a coprire la loro delusione ma vi assicuriamo che il tutto non è dipeso assolutamente da noi che unitamente ai ragazzi e alle loro famiglie abbiamo invece subito l'anticipo tecnico. La contemporaneità degli eventi ha però arricchito il messaggio dello sport lanciato nella nostra bellissima città e perciò delusione e disagio devono passare in secondo piano. Ci scusiamo di nuovo e grazie infinite per il vostro affetto e la vostra partecipazione alla stracittadina di Agropoli, la corsa che fa correre tutti.